Ora vi faccio vedere lo schema del rinforzo senza limatura. Sono Gorbenko Natalia, salva e scrivi step numero 1, lo strato di scivolamento. Secondo step, la goccia la posizioniamo in centro e con un movimento a destra e a sinistra distribuiamo il materiale. Dopodiché trasciniamo la goccia verso il bordo libero. Con questo schema potrai velocizzare il rinforzo. Altri consigli utili ho salvato in questa storia in evidenza.